Una conferma è più di una vittoria, è un voto molto più consapevole, il che implica per me una responsabilità ancora maggiore. Ho avuto la più alta attestazione di fiducia mai data a un presidente in Piemonte da quando esiste la regione. Alberto Ciri inizia suo nuovo mandato con parole sicure e determinate, che tengono in conto un risultato elettorale indubbiamente soddisfacente per il centrodestra, ma ancora di più per lui. A partire dai voti ottenuti con la sua lista personale. Il clima per la prima seduta del nuovo consiglio regionale era da primo giorno di scuola, come sempre capita in questi casi. I nuovi consiglieri sono arrivati accompagnati da coniugi, amici, parenti, figli e anche molto piccoli. Palazzo Lascaris, l'elegante sede istituzionale nel centro cittadino, è ristrutturazione e forse l'ambientazione suggestiva e post-industriale dell'ex officina grandi riparazioni hanno influenzato gli umori dei partecipanti, entusiasmati sin dall'inizio dalla melodia dell'ino di Mameli. Siamo in un luogo storico per il Piemonte, ha detto Ciri, qui aggiustavano i treni, poi è diventato un posto dove durante il Covid c'era un ospedale da campo in cui tanti hanno sofferto ma tanti sono anche guariti. Oggi qui si insiede al consiglio regionale del Piemonte, che è la casa dei cittadini. E poi, riferendosi ai fatti di cronaca recenti, ha aggiunto Esprimo tutta la mia solidarietà a un giornalista di valore che è stato aggredito a Torino mentre stava facendo il suo lavoro, Andrea Giolì della stampa, è una condanna dura e netta per qualsiasi forma di violenza che possa pensare di intimidire la libertà di informare. Il discorso poi è passato alle linee programmatiche. Non mi piacciono i compromessi, ha ribadito Ciri, mi piacciono invece l'equilibrio e la condivisione, e a questo punterò. La regione negli anni, si dice, sia diventata più un ente di gestione che uno di programmazione. È accaduto perché ha dovuto sostituirsi a chi non gestiva, ma noi dovremmo essere un ente di programmazione. Augurandoci che le contingenze del passato non ci siano più, cercheremo di programmare con un gimiranza, collaborando con tutti. Il Presidente poi è passato a toccare i principali temi del programma, con il quale ha vinto le elezioni, partendo dalla sanità. Il tema dei temi è osservato non solo per il Piemonte, ma per il mondo intero. Noi crediamo nella sanità pubblica e vogliamo guardare a quella privata, assicurato in un'ottica complementare, ma è sostitutiva. Ma i temi sono moltissimi. L'equilibrio e la condivisione non sono un compromesso. La parola compromesso è una parola che non piace, ma non piace neanche a me. La condivisione mi piace, l'equilibrio mi piace. Ci sono scelte e momenti storici in cui non si può non condividere. Questo è il momento che stiamo vivendo oggi.